Ciao tifoso della Bianco Celeste, abbiamo una notizia entusiasmante legata al mercato dei trasferimenti e a una richiesta speciale fatta da Maurizio Sarri. Non dimenticate di lasciare il vostro like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Lazio. Andiamo direttamente al punto. Maurizio Sarri, il comandante della Lazio, ha fatto una richiesta specifica al presidente Claudio Lotito per la finestra di trasferimento di gennaio. Sarri sta tenendo d'occhio un giovane difensore dell'Empoli, nato nel 2004, di nome Gabriele Guarino. Curiosamente, Guarino non ha ancora avuto l'opportunità di giocare in questa stagione, il che rende la possibilità di un trasferimento ancora più concreta. Questa mossa sul mercato dei trasferimenti potrebbe portare un giovane talento alla Lazio e rafforzare ulteriormente la squadra. Seguite le prossime settimane per ulteriori aggiornamenti su questa trattativa. E ora vogliamo conoscere la vostra opinione. Pensate che l'arrivo di Gabriele Guarino sarebbe un rinforzo importante per la Lazio? Lasciate i vostri commenti qui sotto e partecipate alla discussione. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.